Un'altra stagione molto difficile Sì, è un giorno super difficile ogni stagione di questo anno è come una stagione potente oggi aspettiamo una stagione molto difficile è molto difficile di controllare la stagione è come come abbiamo usato la stagione in U23 come è la tua condizione? i tuoi piedi stanno molto forti? sì ho sofferto molto l'ultimo anno ho avuto una infezione di Covid in generale non ho trovato i miei piedi fino ad ora ho sentito migliori sensazioni nei piedi sicuramente non posso andare per la vina ma posso supportare Domenico Pozovivo in questa rata e sono molto felice quindi la tua condizione è migliorata quindi qual è il tuo target o il tuo obiettivo? non ho nessun target ma il mio target è avere i miei piedi e i migliori formi del corpo la mia prossima rata sarà Miguel Indurain e poi vengo alla Tour of the Alps spero di avere un miglior sentimento prima perché mi piace davvero la rata e bisogna essere in miglior formi per salvare la rata grazie a tutti grazie